Eccoci qua, ci siamo. Signori, oggi è una giornata particolare perché parlare di calciomercato in marzo, voi direte, ma che c'entra, siamo troppo lontani. Eppure nella giornata di oggi stanno venendo fuori delle riflessioni interessanti su due fronti, quello rinnovo, Paolo Di Bala, e quello acquisto a parametro zero, Paul Pogba, perché questi due giocatori sono uniti da un filo del destino, e cioè potrebbero entrambi cambiare casacca al termine di questa stagione, oppure potrebbero entrambi ritrovarsi a Torino o a Manchester, potrebbero giocare insieme come potrebbero rimanere nelle loro squadre, anche se per Pogba è molto complicato, si era parlato addirittura di un precontratto firmato con il PSG, un'ipotesi che non scarto a priori. Eppure nella giornata di oggi la Gazzetta dello Sport mette in prima pagina Pogba, la Juventus ci crede e avrebbe già un'offerta. Il rinnovo di Di Bala, a Organtune in Italia, come dice Fabiana della Valle, quindi la settimana prossima dovrebbero incontrarsi appunto il procuratore e la Juventus per cercare di capire se proseguire insieme oppure no. Pogba appunto a parametro zero interessa la Juventus, ed è giusto parlarne, perché la Juve in questo periodo qua, in questi istanti, in questi giorni, in queste ore, starà già progettando la squadra per l'anno prossimo e queste non sono trattative da mercato avviato, perché queste sono trattative che devono essere concluse e portate avanti in questi giorni qua per iniziare a buttare delle basi per l'anno prossimo, per la prossima squadra, per il futuro della Juventus. E qui dovranno parlare i dirigenti e Massimiliano Allegri, se sarà ancora Massimiliano Allegri, la notte della Juventus, per l'anno prossimo e capire come muoversi. Quindi attenzione perché so che sembra anacronistico parlarne in marzo, eppure queste sono trattative importanti e sono cose che si stanno discutendo proprio ora in casa Juve. Per iniziare ragazzi OneFootball, il link per scaricare l'applicazione è qui sotto in descrizione, OneFootball è lo sponsor di questo canale YouTube e in questa giornata di vigilia, perché domani si gioca Juventus-Spezia, abbiamo la possibilità di leggere notizie di mercato su OneFootball, proprio per il discorso che ho fatto adesso. La Juventus ne sta parlando, qualcosa si sta muovendo, i procuratori, gli agenti, le società stesse, i giocatori, stanno ragionando e ponderando il futuro. Leggete tutte le trattative, tutte le novità appunto sull'applicazione. Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione. Iniziamo con questo tweet che ho fatto pochi minuti fa. Io sono del 1992, loro, Pogba e Paolo Dybala, sono del 1993, quindi bene o male siamo lì, siamo coi tanei. Pogba e Dybala sono due a cui ho evoluto più bene nel recente passato alla Juventus, due di quelli che mi hanno fatto battere il cuore più degli altri, perché due numeri dieci, due giocatori appunto che sono arrivati molto giovani alla Juventus e sui quali andavo a mettere tanta fiducia per gli anni a venire. E diciamo la verità, Pogba è stato uno dei giocatori più costosi, il più costoso in assoluto, a livello di cessione per la Juve, quindi è diventato storia per la Juve e Dybala e tanti anni che da noi in questo momento è il vice capitano, anche se Giorgio Chiellini non sappiamo, non c'è praticamente mai, quindi Paolo è il capitano effettivo di questa squadra per volere di Massimiliano Allegri, che ha dato la fascia al posto di Bonucci, quindi due giocatori che per forza hanno lasciato il segno e io sogno di vederli ancora uniti in bianco-nero. Per entrambi però ha fatto un ragionamento, è fatto bene. Il solo affetto che provo nei confronti di questi due giocatori non può essere la base su cui costruire il futuro della Juventus. E quindi questa è una premessa doverosissima in una giornata in cui si affronta seriamente l'argomento e che potrebbe portare presto a Dybala e Pogba ancora uniti, ancora a Juventus e ancora sotto la gestione di Massimiliano Allegri come qualche anno fa, ma bisogna parlarne perché non possiamo assolutamente mettere la testa sotto la sabbia e far valere soltanto il sentimento che viene da dentro. Paolo Dybala, nato il 15-11-1993, appunto scadenza del contratto al 30 giugno, ad oggi prende 7.3 milioni di euro all'anno, lo stipendo richiesto è di 8 fissi più 2 di bonus. Il rendimento di Dybala in questa stagione è questo. 20 partite in Serie A, 4 in Champions League, 2 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa. 7 gol in campionato, 3 nella Coppa Massima Europea, 2 nella Coppa Nazionale, 0 nella Supercoppa. Dybala ha servito anche 6 assist, di cui 5 in Serie A, 1 in Champions League, per un totale di 27 partite, 12 gol, 6 assist e 1859 minuti disputati. Secondo me Dybala è essenziale all'interno di questa Juventus per far girare la squadra, è il vero e proprio fulcro tecnico della Juventus e quando non c'è si avverte con insistenza la mancanza di un giocatore fantasioso negli ultimi metri in grado di accendere la luce. La sensazione è la seguente, quando c'è Dybala da un momento all'altro può accadere qualcosa, quando non c'è Dybala è molto più difficile costruire negli ultimi metri, per la mancanza di qualità appunto dalla tre quarti in su. Dybala è il giocatore perfetto, secondo me, da associare ad Ujan Vlaovic, ci permetterebbe di avere ancora più presenza all'interno dell'area di rigore della Juventus e non è un caso che il primo gol di Dybala nasca proprio da un assist di Paolo Dybala. Quel fatto che Vlaovic si trovi bene anche con Morata è un altro discorso, ma io sono assolutamente convinto che Paolo Dybala sia il leader tecnico dell'attacco di questa Juventus, quindi un giocatore utile, purtroppo parla da sé il fatto che fino adesso ha avuto diversi infortuni, infatti soltanto 27 presenze sono un po' pochine, di cui solo 20 in Serie A ne ha saltato due in Champions, ne ha saltato 7 in campionato e ha saltato qualcosa in Coppa Italia. E adesso vedremo, salterà anche domani lo Spezia, l'ha detto oggi Allegri, un risentimento al flessore, possiamo però vedere che quest'anno ha saltato 5 partite per un problema muscolare, una partita per un affaticamento, 3 partite per un altro problema muscolare, 4 partite per il problema alla coscia e domani ne salterà una con lo Spezia per un risentimento al flessore. Qualcuno ha detto che è colpa di Allegri che ha fatto degli allenamenti specifici, questo può essere una chiave di lettura, anche Allegri è andato su questo tema, il problema è che possiamo osservare la recente storia di Paolo Dybala e accorgerci che l'anno scorso, purtroppo con Andrea Pirlo non c'è mai stato, e ha saltato 19 partite con la Juventus, Pirlo veramente non ha mai avuto a disposizione, anzi 21 partite con la Juventus e purtroppo anche Sarri post coronavirus lo ha avuto fuori per un paio di partite che sono state le decisive perché Paolo entra anche nel ritorno di Champions League e gli ottavi contro il Lione e purtroppo deve uscire e questo infortunio andrà a condizionare tutta la stagione successiva di Paolo Dybala e come potete vedere da quel problema lì con Maurizio Sarri è un discorso pesante di Dybala che non riesce a trovare continuità di rendimento e questo per un giocatore che va in scadenza di contratto e che pretende uno stipendio molto alto per una Juventus che sta cercando il modo migliore per andare avanti e lasciare da parte alcune cose che nel passato avrebbero fatto ad occhi chiusi, quindi rinnova le cifre richieste, oggi non è più così, la Juventus deve dosare i soldi a disposizione, deve capire se vale la pena rinnovare Paolo Dybala a quelle cifre lì e questo problema, questi problemi continui perché non è una sola parte del corpo ma sono vari disturbi muscolari, sicuramente la Juventus andrà a prenderli in considerazione e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui non si è chiusa la trattativa ad ottobre come sembrava perché la Juventus e Dybala avevano trovato l'accordo, 8 più 2 si va avanti, 5 anni di contratto, questa è poi problemi con la gente, lo sappiamo, non se ne è fatto più niente, si doveva aspettare il CDA, ora la gente è tornata in Italia e sicuramente la Juventus sta ragionando su questi continui problemi fisici Allegri ha detto, ne stiamo parlando con i fisioterapisti, con i medici per capire effettivamente da cosa nasce questa roba e anche l'infortunio di Dybala di quest'ultimo periodo, quindi quello con il derby e col toro sembrava fosse, si fosse fermati in tempo, si pensava potesse star fuori pochissime partite e invece ne è saltate 4 e quando era prossimo a rientro in allenamento ha avuto un nuovo infortunio ha una nuova parte del corpo che lo terrà ancora fuori e non sappiamo nemmeno per quanto Paolo Dybala stesso due giorni fa, due giorni fa ci aveva assicurato sto bene, con lo spezia ci sarò dipende dal mister vedere se potrò giocare oppure no e invece ieri ha avuto un altro infortunio in un'altra parte del corpo un nuovo infortunio muscolare che è diverso dall'infortunio traumatico e questo porta la Juventus alla riflessione dall'altra parte Paolo Dybala è l'undicesimo marcatore della storia della Juventus e questo non possiamo assolutamente ignorarlo, quindi in attività è il miglior marcatore della Juventus della rosa della Juventus, ovviamente c'è un mostro sacro come Ronaldo che si era avvicinato nella metà delle partite praticamente, però Paolo Dybala è lì e sta lottando per inseguire Roberto Baggio e diventare il decimo marcatore nella storia della Juventus, mancano soltanto tre goli e sono abbastanza convinto che da quel termine della stagione riuscirà a segnarli, per quanto mi riguarda il rinnovo sì ci sta ma va ponderato, va capito la modalità di rinnovo secondo me per quanto mi riguarda si può arrivare addirittura a 10 milioni di euro, non è un problema però bisogna strutturare vari bonus legati alle presenze, quindi per tutelarci in base agli infortuni e con dei risultati individuali o di squadra, se la Juventus vince il campionato, se la Juventus vince la Champions se Dybala fa 20 gol, ecco che si sblocca, la parte fissa per quanto mi riguarda deve essere assolutamente più bassa rispetto agli otto e non possiamo arrivare a cinque anni, io direi un massimo di quattro più l'opzione per un quinto in caso di aver raggiunto altri obiettivi, determinati obiettivi quindi un contratto che va organizzato in questo modo, poi è logico che dall'altra parte lui potrebbe dire sì ma tre mesi fa, quattro, cinque mesi fa avevamo chiuso un altro accordo e ora non sono più convinto di volerlo firmare così, ma stiamo parlando di un giocatore che è alla Juventus da tanto tanto tempo, è un giocatore che in questo momento è leader tecnico come dicevamo prima della squadra, è l'undicesimo marcatore della storia della Juventus è virtualmente il capitano della Juventus, se sarà il capitano della Juventus perché Chiellini avrà un ultimo anno di contratto l'anno prossimo, forse se deciderà di andare avanti visto che anche lui a livello fisico ha diversi problemi, dipenderà secondo me molto dal mondiale e quindi Dybala potrebbe pensarci perché qua si sta parlando di fare effettivamente la storia della Juve, magari facendo un passo indietro rispetto alle sue richieste economiche capendo anche il momento della società e soprattutto capendo il suo momento fisico io Dybala lo rinnoverei, perdere Paolo Dybala a parametro zero per la Juventus diventerebbe un grande problema, ma non possiamo assolutamente fare la carità la Juventus non può fare la carità, non può ragionare di pancia, di cuore, d'affetto e basta e di riconoscenza nei confronti di Paolo Dybala, deve ragionare da azienda, deve ragionare in maniera futuribile, un giocatore come Dybala che fra 4 anni avrà più di 30 anni meno di 35 anni ma siamo lì, quanto vado a pagarlo, qual è il suo ingaggio e quindi sono dubbi secondo me leciti da parte della Juventus ed è giusto ragionare su queste cose, poi sarà molto anche al ragazzo alla sua capacità di comprensione e vedere, poi per quanto mi riguarda gli si può arrivare a 10 milioni davvero però con i bonus strutturati, quindi se Dybala sta bene, le gioca tutte, trascina la Juventus e la Juventus vince, i suoi 10 milioni si riprende e poi potrebbe addirittura insistere per aumentare questa cosa, quindi per me si può arrivare anche a 10-12 milioni di euro vi dico anche 12 milioni di euro, l'importante è che la parte fissa sia più bassa e che si vadano a sbloccare questi soldi solo in caso di Dybala che fa effettivamente quello che dovrebbe fare Paolo Dybala, è un giocatore che va a guadagnare tutti questi soldi diversamente la Juve ha ragione a dire a queste cifre forse no e adesso parliamo di Paul Pogba perché il discorso a fare è molto simile Pogba è nato esattamente 8 mesi prima di Dybala, stesso anno, stesso giorno, cambia solo il mese esattamente lo stesso giorno scadrà anche il contratto, ad oggi prende almeno 15 milioni di euro netti dal Manchester United e poi ho letto in giro che c'erano anche altre fonti che andavano sui 18-20, rimaniamo sui 15 lo stipendio richiesto come titolo a gazzetta dovrebbe essere di 10 milioni con il decreto crescita che aiuterebbe le spese, adesso non so se sarà ancora confermato il decreto crescita per l'anno prossimo ma di solito un giocatore che arriva dall'estero andrebbe ad avere questo sgravo fiscale quindi la Juventus andrebbe a risparmiare sui contributi pagati al giocatore il piano scatta l'operazione per il ritorno, Juve su Pogba è in scadenza con la United pronti 10 milioni a stagione e poi c'è il trafiletto anche su Di Bala il rinnovo è quello che abbiamo detto fino adesso attenzione tra l'altro perché Fabiana della Valle è stata la prima a parlare di Vlaovic alla Juventus e nessuno le aveva creduto ed ora dal niente ne viene fuori con Organtun è in Italia per discutere sul rinnovo o sull'addio di Paolo Di Bala e la Juventus sta seriamente pensando a Pogba la logica mi impone di pensare che in un momento del genere una notizia così strana nasca dal fatto che qualcosa si stia effettivamente muovendo sul fronte Pogba perché anche all'epoca pensare a Vlaovic alla Juventus a gennaio sembrava una follia eppure è successo e come vi dicevo all'inizio la Juventus in questo momento sta ragionando sul futuro e sui primi passi sulle prime caselline da riempire per la stagione che sta per iniziare che inizierà a settembre e quindi un colpo come Pogba a parametro zero va fatto oggi perché le altre non aspettano e se lo vogliono se lo vanno a prendere e secondo me 10 milioni di euro sono anche pochi perché ci sono squadre che potrebbero garantirne di più come il PSG di cui dicevamo prima lo stesso Real Madrid e poi non troppe altre perché secondo me Pogba ha 4-5 squadre al massimo dove poter andare io non sarei per nulla stupito nel ritorno di Pogba alla Juventus proprio perché ne abbiamo già parlato tante volte l'ho già detto secondo me è anche un profilo che la Juventus apprezzerebbe un centrocampista quindi un ruolo che ci serve, il parametro zero, la stima di Pogba, la voglia di tornare a Torino, l'ambiente quindi io non la vedo una roba impossibile ma ci sono dei ma anche qua grandi come una casa non posso dirvi sì punto perché sarebbe incoerente con tutto il mio modo di ragionare e vivere il calcio Pogba al pari di Dybala ha questo quest'anno ha perso 14 partite per infortunio è stato fuori 85 giorni anche qui per un infortunio muscolare esattamente come l'anno scorso dove aveva perso 37 giorni come potete vedere anche lui da qualche anno a questa parte inizia ad avere qualche acciacco e credo che sia abbastanza incoerente perché sto leggendo tanti che non vorrebbero il rinnovo di Dybala per via degli infortuni ma vorrebbero il ritorno di Pogba o diversamente tanti che vorrebbero il rinnovo di Dybala ma non il ritorno di Pogba perché è sempre infortunato credo che bisogna che sia necessario documentarsi su queste cose metterle in parallelo metterle qui vederle entrambe e ragionare allo stesso modo non è che posso ragionare così per Dybala e colà per Pogba no sono due calciatori che hanno delle storie delle cartelle cliniche molto simili a livello recente ed è questo che va controllato e quindi con calma ragioniamoci perché l'esburso economico diventa importante se Dybala ha giocato poche partite Pogba ne ha giocate meno soltanto 20 partite disputate un solo gol e 6 assist per un totale di 1392 minuti meno di 1400 minuti disputati da Pogba in stagione poco pochissimo per un calciatore che ha la stessa età di Dybala che ha un ruolo diverso da quello di Dybala ma che andrebbe veramente a svoltare il centrocampo ma che andrebbe a chiedere tanti soldini che poi alla circa andrebbero a essere pagati uguali perché appunto per lo sgravo fiscale Pogba sarebbe dominante nel centrocampo della Juve in Italia con la sigaretta in bocca perché le qualità tecniche di Pogba sono fuori dalla norma vanno al di là di tutto e quindi andrebbe sicuramente a migliorare non di poco il centrocampo della Juve però attenzione che lo stesso Pogba qualche infortunio lo ha avuto poi con Massimo Emiliano Allegri ha un ottimo rapporto è stato allenato due anni da Allegri il primo andato in finale di Champions nel secondo era il numero 10 della Juve hanno vinto tanto insieme guardate cosa ha fatto Pogba alla Juve 34 gol e 40 assist in 178 partite 14.000 minuti disputati quindi di Pogba sappiamo vita morte miracoli è arrivato che era un ragazzino è andato via che era uno dei calciatori più forti del mondo dopo ha vinto anche il mondiale quindi veramente Pogba è un giocatore maturo arriverebbe in un momento di carriera anche delicato in cui a forse l'ultimo grande contratto tornerebbe forse anche per amore rinunciando a qualche soldo in più di qualche società io sarei assolutamente favorevole al ritorno di Pogba ma bisogna parlarne perché si può davvero arrivare anche a quei 10 milioni all'anno del decreto crescita ma dare il più di quella cifra secondo me sarebbe un azzardo al pari di Dybala come vi dicevo prima ragioniamoci su queste cifre perché se no si rischia veramente ne parliamo dopo di avere delle situazioni un po' particolari quindi possiamo arrivare anche a 10 anche qua a 12 ma mettiamoci dei bonus legate alle presenze legate a quello che potrebbero fare alla Juventus e poi do delle condizioni perché l'accessione di Rabiot avrebbe senso Rabiot guadagna uno stipendio alto probabilmente anche lui col decreto crescita e si potrebbe prendere lo stipendio di Rabiot e convertire in quello di Pogba avendo un upgrade a livello tecnico incredibile perdendoci qualcosa sull'età perché Rabiot è un paio di anni più giovani rispetto a Pogba ma Pogba è indubbiamente più forte rispetto a Rabiot e per quanto mi riguarda ci deve essere la permanenza di Elite e la permanenza di Chiesa perché noi possiamo parlarne no? e dire sì vabbè arriva Pogba perché è di Raiola ma nel frattempo Raiola ci sposta a Elite non sono d'accordo non sono d'accordo preferisco mantenere Elite che avere il ritorno di Pogba alla grandissima per quanto poi gli anni belli il giocatore a cui sono legato a Elite voglio un bene dell'anima un bene incredibile lo vedo benissimo alla Juventus anche per tanti anni quindi dico no, no, no al ritorno di Pogba se dovesse essere impiegato se dovesse essere raggiunto soltanto tramite l'accessione di uno di Elite o Chiesa no, no e assolutamente no in caso contrario benvenga, bentornato Paul Pogba ti stavo aspettando da tanti anni perché dicevo Chiesa? perché abbiamo due infortunati a lungo termine che sono Chiesa e McKennie appunto uno in 97, uno in 98 entrambi sono più giovani di Pogba e di Dybala sono un attaccante e un centrocampista questi sono i nuovi profili della Juventus non sono infortuni muscolari come hanno avuto Pogba e Dybala negli anni hanno avuto due infortuni di diversa natura di diversa entità li aspettiamo, sono lungo adegenti e quindi in questo momento l'infermeria dovrebbe ragionare su questi due perché un conto è se continui a avere uno stesso problema cronico a livello muscolare diventa un problema risolverlo loro hanno avuto un infortunio di diversa entità, di diversa natura e quindi mi concentro su questi profili qua che sono quelli su cui Juventus deve insistere e andare a cercare nuovi profili simili sul mercato e attenzione che quello che dicevo prima è questo perché negli anni abbiamo avuto diverse situazioni Ramsey che è ancora nostro tornerà perché anche i Rangers non sta giocando quindi occhio un centrocampista che guadagna tanto che è sempre infortunato come Chedira un centrocampista che guadagna tanto sempre infortunato come Douglas Costa un giocatore sempre infortunato guadagna tanto erano nomi erano giocatori forti davvero giocatori forti che a un certo punto hanno smesso di rendere alla Juventus perché non c'erano mai quindi attenzione che Pogba e Dybala se facciamo dei rinnovi lunghi e onerosi e rischiamo delle situazioni simili se abbiamo imparato qualcosa dal passato cerchiamo di strutturare dei rinnovi in un certo modo poi per caso in questa foto ci sono anche Manzucic e Quadrado Manzucic stesso è stato uno di quelli con cui il rinnovo poi abbiamo avuto un po' di problemini Quadrado è un altro di quelli che va in scadenza quindi occhio a rinnovarlo a cifre alte con tanti anni di contratto ricordiamoci che Quadrado è un giocatore vecchio per me Quadrado va rinnovato assolutamente perché è un altro dei valori aggiunti di questa Juve ma attenzione alle cifre che proponiamo e attenzione agli anni di contratto che andiamo a proporre questa per dire è un'ipotetica formazione della Juventus con Dybala e Pogba che arrivano 4-3-3 per prendere un po' la falla serie di quello che abbiamo visto con Morata al posto di Chiesa quando tornerà appunto Chiesa e McKennie a me sembra una formazione di tutto rispetto il rinnovo di Dybala e l'arrivo di Pogba a zero andrebbero matematicamente a rinforzare la Juventus poi il mercato dovrebbe appunto spostarsi alla ricerca di due titolari che sono il terzino sinistro perché Alessandro ha finito il suo percorso la Juventus lo sappiamo bene e Pellegrini in questo momento non sembra ancora dare garanzie per essere titolare in una grande Juve può essere benissimo un giocatore che entra nelle rotazioni a me anche piace tanto Pellegrini l'ho già detto tante volte ma non lo vedo ancora pronto per essere un titolare della Juve insieme a un difensore titolare un centrale perché al fianco di De Litt con Bonucci e Chiellini che stanno avendo un sacco di problemi e Rugani che per tutto rispetto ma può essere soltanto una riserva non un titolare di questa Juve servono degli interventi mirati lì in difesa dove è da un po' che noi interveniamo e anzi stiamo vendendo vero Romero? vero De Miral? quindi rimaniamo un attimo concentrati lì poi ci sono trattative minori come il rinnovo di De Sciglio, di Bernardeschi appunto quella di Quadrado o l'eventuale riscatto di Morata bisognerà capire che cosa si vorrà fare come si riusciranno a incastrare queste cose a centrocampo poi ci sono Fagioli Rovella da valutare sono pronti per essere giocatori alla Juventus possono arrivare alla Juventus poi ci sono Artur Zaccaria tornerà dentro Ramsey bisognerà trovare un'altra sistemazione c'era più da cedere quindi ci sono delle operazioni che faremo quest'estate perché ci sarà tempo da farle quest'estate e ci sono delle operazioni come Dybala e Pogba che vanno fatte oggi adesso forse siamo anche già un po' in ritardo e quindi per concludere dopo avervi spiegato tutte le mie posizioni e dopo avervi messo questa foto bellissima di Pogba e Dybala insieme vi chiedo ne vale la pena? ne vale la pena averli insieme? oppure ne vale la pena Pogba? oppure ne vale la pena Dybala? per rinnovarlo? fatemi sapere perché questa domanda è così corta è così semplice è così banale ma io ci ho messo quasi 25 minuti di tempo per sviscerare tutto per raccontarvi tutto per far parlare i fatti per mettere giù i numeri per evidenziare che ci sono delle motivazioni che mi spingono a dire di sì e rimango sul sì per l'arrivo di Pogba e per il no di Dybala ma non è un sì così secco così facile da dire perché ci sono anche tante motivazioni che fanno pendere per il no poi per quanto mi riguarda Dybala e Pogba sono due giocatori fenomenali sono due giocatori fortissimi che vanno ad innalzare il tasso tecnico della Juventus vanno ad aiutare la Juventus sul campo a raggiungere risultati sempre maggiori però attenzione che non vorrei mai ritrovarmi con Dybala e Pogba all'interno della Juve l'anno prossimo ok ma essere costretto a cedere d'elite ma essere costretto a non rinnovare chiesa perché se no i soldi non bastano quindi attenzione io vi ho dato la mia opinione ora voglio sapere la vostra grazie